tra i principali strumenti di misura utilizzati nelle officine meccaniche sicuramente troviamo il micrometro per interni a cosa serve questo strumento di misura il micrometro per interni viene impiegato per misurare i diametri di fori e anche altre quote interne purché siano superiori ai 50 mm che forma a il micrometro per interni innanzitutto è costituito da una testina micrometrica sulla quale possono essere montate una o più aste combinabili di prolungamento la testina micrometrica e di forma cilindrica ed è in tutto simile alla bussola delle micrometro per esterni e allora osserviamo più di avvicino questo strumento di misura ci avvaliamo di questa figura dove vediamo le parti principali di questo strumento mediante questa sezione e allora cerchiamo di identificare i principali componenti con la lettera troviamo il tamburo graduato con la lettera b la bussola graduata la lettera c identifica la vite micrometrica di invece il dispositivo di bloccaggio che non è altro che una vite di bloccaggio con la lettera e invece abbiamo il tastatore fisso della testina micrometrica che viene chiamato puntalino la lettera f identifica il primo tubo di prolungamento che viene avvitato direttamente sulla testina con la lettera g abbiamo invece l'asta scorrevole all'interno del primo tubo di prolungamento con la lettera h abbiamo il secondo tubo di prolungamento che viene avvitato sul primo tubo e con la lettera i l'asta scorrevole all'interno del primo tubo di prolungamento con la lettera l abbiamo l'estremità sferiche e con la lettera m l'estremità piane dicevamo all'inizio che sul su questo strumento è possibile montare una o più aste combinabili di prolungamento osserviamole meglio allora le aste combinabili sono contenute come dicevamo prima entro tubi di prolungamento che opportunamente accoppiati tra tra di loro consentono le varie combinazioni ogni asta scorre libera entro le guide del tubo di prolungamento è una molla tarata la spinge in maniera costante verso la successiva a tamburo completamente avvitato la testina è lunga 50 mm infatti dicevamo che questi strumenti possono essere utilizzati per misurare diametri di fori o di altre quote interne purché siano superiori ai 50 mm il suo campo di misura è di circa 13 mm con la sola testina si possono pertanto effettuare misure che vanno dai 50 a 63 mm per estendere la portata dello strumento si utilizzano uno più aste di prolungamento un assortimento normale è costituito da una serie di cinque aste di solito sono cinque aste di prolungamento con valori di 13 25 50 100 e 150 combinando le vaste nei vari modi possibili con questo assortimento è possibile misurare qualsiasi distanza compresa tra 50 e 400 mm se volessimo misurare quote superiori ai 400 millimetri vengono impiegate aste supplementari di 200 mm qui ad esempio nella figura è mostrato un esempio di misura effettuata montando sulla testina micrometrica due aste di prolungamento bisogna tener conto di alcuni accorgimenti quando si utilizzano i micrometri per interni ad esempio per la misurazione di foriquadri in questo caso nella misurazione di foriquadri o rettangolari il micrometro deve essere posizionato perpendicolarmente alla parete del del foro tenendolo ben fermo per la parte inferiore e lo si allunga finché l'asta l'asta mobile della vite della vite micrometrica non tocchi l'estremità opposta chiaramente questa operazione va ripetuta nello stesso punto due o tre volte in modo da avere la certezza che lo strumento misuri perpendicolarmente la posizione di perpendicolarità sarà raggiunta quando tenendo fissa una estremità risulterà agevole lo spostamento sia verso destra sia verso sinistra come mostra qui la figura e da dall'altra estremità infatti quando il micrometro è in posizione perpendicolare al foro la distanza tra le due superfici parallele e quella minima per quanto riguarda la misurazione di fori circolari va detto che questa operazione richiede pratica e abilità si deve accertare che non sia possibile lo spostamento verso sinistra e verso destra dello strumento per avere la sicurezza che la misura rilevata sia la massima si deve inoltre curare che il micrometro sia ortogonale all'asse del foro non osservando purtroppo queste norme si possono avere misure inferiori alla reale perché si misura una corda al posto del diametro qui infatti come mostra la figura a oppure si possono avere misure superiori alla reale perché si misura il diametro in un piano non ortogonale all'asse del foro e di conseguenza la misura rilevata sarà maggiore di quella reale cosa possiamo dire invece del micrometro per interni con vecchi misuratori questo micrometro sostituisce alla staffa due vecchi simili a quella di un calibro cinquantesimale questo tipo di strumento è particolarmente indicato quando si devono misurare fuori con dimensioni abbastanza piccole ad esempio il diametro più piccolo misurabile è quello di 5 mm uno dei vecchi è fisso mentre l'altro si sposta ruotando il tamburo delle del micrometro perché è solidale alla vite micrometrica se osserviamo qui la figura notiamo con la lettera a i vecchi misuratori con la lettera b l'estremità dei vecchi la lettera c ci mostra l'asta di guida e la lettera d invece l'albero cilindrico tra i micrometri per interni non dobbiamo dimenticare il micrometro a contatti espansibili e allora la misurazione con questi micrometri viene effettuata da tre testatori qui nella figura i tre testatori vengono identificati dalla lettera b questi tre testatori sono posti a 120 gradi tra di loro e sono costretti ad espandersi in maniera simmetrica da un cono filettato il cono filettato è indicato dalla lettera a questo cono filettato è collegato all'asta c ed è comandato dal bottone indicato dalla lettera f la lettura se effettua sulla bussola indicata dalla lettera d e sul tamburo e entrambi sono graduati ed è simile a quella dei normali micrometri alcuni modelli di questi micrometri a contatti espansibili hanno inoltre un nonio che permette approssimazioni molto piccole ad esempio di 0,005 di 0,002 e di 0,001 la portata di questi micrometri varia da 10 a 300 millimetri e il campo di misura da 3 a 25 millimetri